buon ciao benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video perché è arrivata nuova capenna per capire meglio vedere tutte le varie combinazioni di colori e via con il video io sono il vostro amichevole nonno della rete qua siamo la fumetteria di trani e questo è magic the catering anche se qui non si gioca magic il nonno gioca magic purtroppo per qualcuno che aperta vita ti diamo il benvenuto nella vibrante metropoli di nuova capenna quale famiglia si guadagnerà la tua devozione per i playlist o c'è l'opzione di scegliere uno tra queste famiglie i maghi talentuosi che il bianco blu e nero poi il maestro che sono agli obscure i maghi talentuosi i maestro gli assassini gli assassini d'elite quindi blu nero e rosso i rivettatori i rivettatori costruttori di distruzione nero rossa e verde o non ce ne ha azzeccato uno così poi il rosso verde e bianco sono i cabaretti i mostri festaioli e poi gli intermediari sono gli avvocati demoniaci allora faccio una cosa essendo 5 essendo sicuramente un video lungo questo visto che tutta la presentazione parto solo con ci sbustiamo solo i maghi talentuosi questo esce da questo simpatico opuscolo esce da un altro sbusting che poi vedrete che è il collector booster no il collector booster il booster quello normale quello da 30 bustine con le cose fighe dentro ok detto questo fighissimo allora guardate che bello mamma mia geniale con tutti i segnalini i vari segnalini che servono geniale perché questo dovrebbe essere lo scudo poi va beh sicuramente vi porterò anche video su magica arena dado rosso con il simbolo di nuova capenna il codice che vi regalo come si vede a posto il separa deck farà anche un video solo di sbusting di promo perché so fighe il fatto che non vedi la promo però in questo caso la vedremo perché così vediamo completo bellissimo pesce 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 allora esce a ok una bustina della famiglia fighissimo ok perché questo abbiamo detto che blu bianco e nero ok influenza degli obscura tre malate colori degli obscura ogni col incantesimo ogni col volta la giro la magia se il suo valore di mala è pari a 1 faccio una cosa io metto il dato per il punteggio della carta comunque sull'influenza degli obscura metti un segnalino anima sull'influenza degli obscura poi crea una pedia creatura spirito 22 bianco volare fintanto che ci sono cinque più segnalini anima sull'influenza degli obscura gli spiriti controlli credo più 1 più 1 e pari a 1 più 2 è un bo nonno secondo me molto molto incasilate una rara a la promo ok ed esce la promo foil con la data o che cosa è 20 20 22 a ok 2022 volare 2 mana 1 3 ogni qual volta un giocatore lancia la sua seconda magia in ogni turno il trituratore di libri mastri complotta pesca una carta poi scatta una carta se è scartata una carta non terra metti segnalino più 1 più 1 su questa creatura e poi un tesoro è un pesce voto 1 perché non l'ho capito secondo me complessa come rara andiamo solo sulle rare sennò quel video diventa troppo lungo c'è uno su lei e a lei do un bello cinque seconda magia complotto dai vediamo un blu e bianco azorius che gioca due magie o altra doppia rara altra doppia rara influenza degli intermediari questa volta verde bianco e blu che sarebbero gli intermediari o casi vabbè sì avvocati demoniaci all'inizio della tua sottofase finale metti un segnalino più 1 più 1 su ogni creatura che controlli un segnalino fedeltà su ogni presuolo che controlli peccato che dice sottofase finale gli don 3 mentre anche influenza dei cabaretti rosso bianco oggi voglio mettere in difficoltà rosso bianco e verde all'inizio del tuo mantenimento guarda la prima carta il tuo crimorio se è una carta creatura o place walker puoi rivelarla e aggiungerla a tua mano se non aggiungerla a tua mano puoi mettere in fondo al tuo crimorio al tuo crimorio simpatica dai secondo me non è tanto utile all'inizio del mantenimento creatura presuolo che dai diamoglielo un 4 tre colori pesante sì 4 mamma mia questo deve essere il simbolo ok facciamo alla coreografia anzi ok ok un attimo solo organizzazione 10 vai fuga udace comitato di benvenuto al galà 2 mana 1 1 druido elfo alleanza ogni qualvolta un'altra creatura entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo scegli uno che non è stato scelto in questo turno metti un segnalino più 1 più 1 su di lei crei un tesoro tappato guadagni due punti di vita forte è questo a su 20 mamma mia si va beh comunque si su 20 questo gli do un bel 10 anche no anche 13 secondo me è un elfo è un elfo ogni qualvolta no fortissimo si diventa forte e crea tesori rampa come il porcellino ok solo un segnalino più 1 più 1 però fa tesori ma dagli due punti vabbè si diciamo secondo me un 13 ci sta su 20 si su 20 si che sarebbe diciamo un 7 facciamo mannaggia no ma facciamo non facciamo su 10 facciamo su 10 7 non complichiamoci la vita l'influenza bello che faccio tutti io un'altra l'influenza dei rivetatori questo nome mi manderà perciò mi sono usciti 4 vediamo se ci è anche la quinta che fa questa nero rosse nero rosse verde incantesimo ogni qualvolta sacrifichi una creatura puoi rimettere sul campo di battaglia tappato una carta creatura bersaglio con valore di male inferiore dal tuo civitero fallo solo una volta per turno vabbè comunque dice per turno no no fallo solo nel tuo turno figo secondo me questa è la più interessante o no vabbè rimango sul 6 comunque tre colori però è la più interessante tra per ora di come influenza con valore di male inferiore vabbè va bene inferiore il mano e non forza costituzione limousine bellissima 5 vada 4 4 ogni qualvolta entra nei capi battaglia o attacca esiglia fino a un'altra creatura bersaglio a ok quando entra nei capi battaglia attacca esiglia o finché non lascia il capo battaglia se una creatura viene messa in esilio in questo modo rimettiamo sul capo in battaglia fino ve lo dice ok non la dobbiamo esiglia per forza però rimettiamo sul capo in battaglia ogni altra carta esiliata con lei è un artefatto veicolo diciamo ci può stare un mazzo veicoli per amor di dio però è è limitato a quello bellissima bellissima le terre 5 si è molto molto figa comunque simpatica 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 bella bella pure perché è una limousine però ultima bustina o non mi è uscito l'ultima influenza però mi è uscito il condottiero proletario 5 vada 5 e 3 guerriero rinoceronte travolgere entra ai capi battaglia guadagni guadagni tre punti vita muore crei un guerriero rinoceronte 4 4 blitz se mana se lanci questa magia a rapidità ok se paghi blitz a rapidità e quando questa creatura muore peschi una carta sacrificala perciò entra in gioco rapida 5 e 3 travolgere guadagniamo 3 creiamo rinoceronte peschiamo la carta 7 troppe cose troppe cose per mettergli un voto basso porca miseria vabbè pesante 5 vada però quando entra a far casino po 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 la cicliamo pure rimanendo un pezzo guadagnando punto di vita così a caso vai con l'otto vai condottiero proletà 7 perché 5 vada se la 4 vada 4 3 trovo tutto il resto fortissimo a 5 vada il blitz però va bene ci sta raga questo è il primo video di 3 seguitemi grazie mille per la visione ci vediamo a tantissimi altri video bella voglio io